Buondì, dottor Bertola, sono un medico ISDE, sono il presidente della sezione provinciale di Vicenza di ISDE. Abbiamo pensato di fare questo studio per dare un'opportunità di salute anche a tutti i giovani maschi. Lo studio è incentrato sulla salute riproduttiva maschile e tutti quelli che si presenteranno gratuitamente e senza impegnative del medico curante potranno fare uno spermiogramma, una visita andrologica, un'ecografia dei testicoli, una densitometria ossea e gli esami del sangue. Tutte queste prestazioni sono offerte sia perché ci servono per capire se c'è una relazione tra i PFAS e la salute riproduttiva maschile sia soprattutto quando insegneremo a tutti quelli che partecipano all'autopalpazione testicolare per trasmettere dei valori di prevenzione a tutti i partecipanti allo studio.